In questo secondo video proseguiamo con alcuni elementi di calcolo vettoriale nello spazio reale tridimensionale. Sono dati tre punti, A, B e D, di cui vedete le coordinate. La prima richiesta è trovare le coordinate di un punto C in modo tale che il quadrilatero A, B, C, D sia un parallelogramma, calcolare poi il coseno dell'angolo B, A, C, calcolare le coordinate del prodotto vettoriale A, B vettore A, C e infine calcolare l'area del parallelogramma A, B, C, D. Allora, per il primo punto, se consideriamo un generico punto C dello spazio, quindi coordinate x, y e z, C è il vertice mancante del parallelogramma B, C, D se e solo se risulta o B, C uguale ad A, D, vettore B, C uguale a vettore A, D oppure vettore A, B uguale a vettore C, D perché B, C e A, D, così come A, B e D, C sono due lati opposti del parallelogramma richiesto. Allora, io considero la prima uguaglianza, quindi vado a scrivermi le componenti cartesiane cartesiane dei vettori BC e AD. Solito discorso, differenza tra le coordinate omonime di C e di B nell'ordine per il vettore BC, di A e di D nell'ordine per il vettore AD e si ottengono per il vettore BC x meno 3, y meno 7, z più 5 per il vettore AD, 8 meno 7 e meno 3. E allora, per imporre che i due vettori siano uguali, basta imporre che le coordinate omonime siano uguali, quindi x meno 3 uguale a 8, y meno 7 uguale a meno 7, z più 5 uguale a meno 3. E si ottengono così le coordinate del punto C, 11, 0 e meno 8. Passiamo al punto B, quindi calcolare il coseno dell'angolo BAC. Beh, abbiamo già visto come si fa in un precedente esercizio, basta fare il rapporto tra il prodotto scalare tra i vettori AB e AC, che sono appunto quelli che si intersecano nel vertice A e quindi formano l'angolo BAC. E dicevo appunto dividere questo prodotto scalare per il modulo dei due vettori AB e AC e si ottiene l'espressione 161 fratto radice quadrata e 39.284, che è circa uguale a 0.812. Poi, per quanto riguarda il coseno, ok, l'abbiamo trovato, siamo a posto, ho messo sotto i calcoli che ho fatto prima, in realtà, no? Per poter poi sostituire nell'espressione del coseno BAC. Poi, prodotto vettoriale tra AB e AC, anche qua la matrice, anche questo tipo di esercizio l'avevamo già visto nel precedente video. Procedura di calcolo, quindi non sto troppo a illustrarla, perché è quella nota. Ho sviluppato il determinante della matrice quadrata di ordine 3 secondo la prima riga, no? Quindi secondo i versori IJ e K e ottenete il risultato, ecco, del prodotto vettoriale. Meno 75I, meno 57J, meno 67K. Questo significa che le coordinate del vettore AB, AB vettore AC. Non sono altro che i coefficienti, diciamo così, dei tre versori IJ e K, quindi meno 75, meno 57, meno 67. Infine, per quanto riguarda la superficie e il parallelogramma, questa non è altro che il valore assoluto del precedente prodotto vettoriale. Quindi, basta fare la radice quadrata, e scusate, non il valore assoluto, voglio dire il modulo del precedente prodotto vettoriale. Quindi, avendo le coordinate del vettore risultante AB vettore AC, radice quadrata della somma dei quadrati delle componenti cartesiane. E l'esercizio è concluso. Numero 6. E' un doppio esercizio, diciamo così. Sono dati tre vettori, sia nel caso A che nel caso B. Dobbiamo stabilire se sono o meno linearmente dipendenti. Beh, come si deve fare? Basta calcolare il determinante della matrice che si ottiene mettendo per righe i tre vettori V1, V2 e V3 e controllare se questo determinante è uguale a zero oppure no. Se è zero, sono linearmente dipendenti. Se è diverso da zero, non lo sono. L'ordine in cui si mettono nella matrice i tre vettori, i tre vettori riga, è irrilevante ai fini dell'esercizio che dobbiamo risolvere. Perché? Perché appunto si tratta di stabilire se il determinante è nullo oppure no. E come noto, una delle proprietà dei determinanti di una matrice è che se si scambiano di posto due righe o due colonne, il determinante, se non è uguale a zero, cambia di segno. Ora, se è zero, cambiando di posto due righe, due o più righe, rimane sempre zero. Se è diverso da zero, potrà cambiare di segno. Se ho scambiato due sole righe, cambia di segno. Se ho fatto un doppio scambio, non cambia. In ogni caso, quello che ci interessa non è tanto il valore, quando è diverso da zero, ma appunto se è diverso da zero oppure no. Chiaro? E allora, in questo caso il determinante della matrice l'ho calcolato sviluppandolo da matrice M secondo la prima riga. Perché? Perché la prima riga contiene uno zero e quindi questo mi permette di calcolare un determinante di una matrice quadrata di ordine 2 di meno, non più 3, ma 2. Stesso discorso se l'avessi sviluppato secondo la prima colonna. I calcoli sono lì, li vedete. Il risultato è zero, quindi vuol dire che i vettori del caso A sono linearmente dipendenti. Nel caso B, tre vettori, qui ho sviluppato il determinante secondo l'ultima colonna, perché c'è uno zero. Potevo farlo anche secondo l'ultima riga, perché c'è sempre uno zero. In questo caso il risultato è 23, quel che conta non è tanto il valore numerico quanto il fatto che è diverso da zero. Quindi nel caso B i tre vettori sono linearmente indipendenti. esercizio numero 7. Allora, si chiede di calcolare il prodotto misto B vettor C, tra parentesi, scalar A. Ora, B vettor C ci darà come risultato un vettore. Moltiplicato scalarmente per A ci darà come risultato uno scalare, cioè un numero reale. Allora, cosa bisogna fare qua? Bisogna calcolare il determinante della matrice, e qui è importante l'ordine secondo cui si mettono i vettori. Nella prima riga dobbiamo mettere il vettore A e poi nella seconda e terza riga, rispettivamente B e C. Anche qua è comodo sviluppare il determinante della matrice M secondo la prima riga, in quanto contiene uno zero, oppure si potrebbe scegliere la terza riga o la terza colonna. Io ho scelto la prima riga e ho ottenuto un risultato meno 2. Ecco, verifichiamo poi una seconda richiesta dell'esercizio, con i tre vettori dati. che vale la relazione che vedete scritta. Cioè il prodotto misto che abbiamo calcolato prima, cioè B vettor C tra parentesi scalare A, ha lo stesso valore di C vettore A tra parentesi scalare B, oppure di A vettore B tra parentesi scalare C. I calcoli li vedete e non c'è bisogno che aggiunga particolari commenti. Come potete constatare il risultato è lo stesso. Ora, da dove arriva questa proprietà? Beh, questa proprietà si può ricavare in generale con, appunto come ho scritto qui, considerazioni di tipo combinatorio sulle righe della matrice M. Ora, la matrice M è una matrice quadrata di ordine 3. Se eseguiamo una permutazione tra le sue righe, visto che abbiamo considerato dei vettori riga, abbiamo tre elementi, come è noto dal calcolo combinatorio, le permutazioni di tre elementi distinti sono sei. Di queste sei permutazioni, tre, come si usa a dire, sono due permutazioni pari. Vale a dire si ottengono scambiando solo due elementi, cioè due righe. E quindi il determinante a matrice cambia di segno. Le altre tre invece sono di ordine dispari, quindi vuol dire che è stato effettuato un numero dispari di scambi e precisamente tre, perché uno solo e dalla relazione che c'è scritto, torniamo un attimo qua, vedete che qua di scambi ne sono stati fatti tre. Anzi, scusate, ho detto una fesseria, ne sono stati fatti due. Quindi vuol dire che i tre prodotti che ho indicato con un asterisco corrispondono alle tre permutazioni pari della matrice M e essendo appunto permutazioni pari il determinante non cambia segno quando è diverso da zero. Esercizio numero 8, che sembra avere una richiesta diversa dal precedente, in realtà si risolve con la stessa procedura. Perché? Beh, stabilire se tre vettori dati sono o meno complanari significa verificare se il determinante della matrice che ha per riga i tre vettori dati è nullo oppure no. Se è nullo sono complanari, diversamente non lo sono. E allora, scritta la matrice, calcolato il suo determinante in maniera da semplificare il calcolo, quindi usando o la riga o la colonna dove c'è uno zero, io ho usato la riga, il risultato come vedete è 28 diverso da zero, quindi i tre vettori non sono complanari. Ultimo esercizio di questo video, sono dati tre vettori di cui due hanno una componente parametrica, diciamo così, perché appunto non è un valore numerico ma c'è un parametro, in questo caso H. Si chiede di trovare il valore e il parametro in modo che siano complanari. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare la matrice che ha per riga i tre vettori dati, calcolare il suo determinante e imporre che sia uguale a zero, perché vogliamo che siano complanari. Allora, eseguendo il calcolo del determinante della matrice M e secondo la prima colonna, si ottiene l'espressione meno 14H meno 25. dobbiamo ugualiarla a zero e otteniamo come risultato meno 25 quattordicesimi. Ciò significa che per H uguale a meno 25 quattordicesimi i tre vettori dati risultano complanari e con questo il video è finito.